Avvengono delle cose davvero strane a Taranto. Mi trovo al quartiere Paolo VI, in via Giuseppe Peppino Impastato, alle spalle proprio della megastruttura della nuova Corte di Appello e guardate qui una raccolta di legna, legname, mobili e quant'altro che sicuramente sarà lo strumento ideale per fare il falò di San Giuseppe tra qualche mese. Dico che avvengono cose strane perché una zona abbastanza centrale di Paolo VI, vicina alla struttura giudiziaria, qui passano i vigili urbani, passano i carabinieri, visto che siamo nelle vicinanze della caserma dei carabinieri. Beh, io dico, tutti vedono questa situazione e perché non intervengono? Vorrei capire perché non si interviene. È normale che si possa così creare un accumulo naturale, visto che ormai è diventata naturale, andare lì e buttare di tutto. Vedete, si sta creando proprio l'insieme, la montagna di legna e legname per poi accendere il fuoco quando sarà San Giuseppe o comunque per altri roghi che si potrebbero fare, a prescindere dal falò di San Giuseppe, non ci vuol niente che viene acceso, viene lanciato un qualcosa di incendiario e si sviluppa il rogo. Siamo a metà gennaio, San Giuseppe e il 19 marzo. A prima ancora di San Giuseppe, qualsiasi altro evento incendiario potrà accadere. Io ve lo sto segnalando, però ho dei dubbi, non riesco a capire per quale motivo le istituzioni non intervengano. Io incomincio, credetemi, ad avere sfiducia nelle istituzioni, sì, sfiducia nelle istituzioni. Perché io dico, ma solo io vedo queste cose? Solo io le vedo, penso che le vedano tutti. E se le istituzioni, le forze dell'ordine, i vigili urbani vedono questa situazione, domanda, perché non si interviene? Vorrei capirlo. Io ho massimo rispetto delle istituzioni, ho massimo rispetto delle forze dell'ordine, ho fiducia nelle forze dell'ordine. Vengo da una famiglia di militari, mio zio era generale dell'arma dei carabinieri, quindi sono la persona che stima di più le istituzioni. Però io, come tutti i cittadini, vogliamo risposte dalle istituzioni, non vogliamo silenzi, vogliamo interventi. Perché quando c'è questa situazione, facciamola vedere, tutta la legna che c'è, e dico, benedetti Dio, ma tutti vedono e nessuno interviene? E nessuno interviene. Io prossimamente, per varie problematiche che mi sono state segnalate su Paolo VI, chiederò un incontro ufficiale da consigliere comunale con il comandante della stazione dei carabinieri. Ho stima, certamente, del comandante, ho stima di tutto il corpo dei carabinieri, però permettete, io devo dire, ma perché non si pone rimedio a questa situazione? Io voglio risposte. Io voglio risposte perché io credo nella legalità e voglio che la legalità non sia solo a parole, ma sia ogni giorno nei fatti. Sì, e la legalità si assicura ogni giorno con gli interventi, presidiando il territorio, andando a rimuovere le situazioni di legalità, andando a sanzionare chi determina quelle situazioni di legalità. Questa è la situazione qui, di questo falò. Guardate, facciamo vedere tutta l'area in cui ci troviamo. Questo spiazzo, lo vedete, proprio cosa assurda, sembra quasi una caricatura, che ci troviamo a pochi passi da una struttura giudiziaria. Evidentemente, che vi devo dire, qui si amministra la legge, la giustizia e qui evidentemente dobina l'illegalità. Penso di essere stato chiaro. Ora pretendo risposte a nome della cittadinanza che rappresento in Consiglio Comunale. Grazie a tutti.